Ciao ragazzi, siamo arrivati alla prima gara il GP di Australia per cominciare questo campionato di F1 2016 Si dice che nella Formula 1 anche un secondo sia un'eternità provate a immaginare cosa significhi passare 4 mesi d'inverno senza gareggiare siamo di nuovo a Melbourne che ospita il Gran Premio d'Australia dal 1996 tanto bella questa città di Melbourne oggi si gareggia nello stato di Victoria dove i piloti hanno 16 curve e 5303 metri a disposizione per raggiungere una velocità media sul giro di 190 km orari la vicinanza delle barriere rende inevitabili gli incidenti e la storia recente ci ricorda che la Safety Car non è un'eventualità assolutamente da escludere Oggi e nel corso del campionato accanto a me a commentare la gara ci sarà il solo e unico Luca Filippi siamo al primo Gran Premio del campionato ed è la prima volta che vediamo queste vetture in azione Luca, secondo te quali sono i dubbi principali? Prima di tutto vorrei ringraziare Carlo Vanzini per la losing e rappresentazione per me è un onore essere qui e non vedo l'ora di scoprire che cos'hanno il serbo per noi quest'anno le varie scuderie per rispondere alla tua domanda credo che oltre alle prestazioni il vero punto interrogativo sia l'affidabilità è il primo Gran Premio del campionato Ragazzi prepariamo Sarà una gara difficile E' un attimo la griglia? Assolutamente ragazzi non mi ricordo neanche come sono qualificato E ora vediamo il resto della griglia Hamilton, Rosberg, Sebastian Vettel e Raikkonen Trojan, Massa, Alonso e Sergio Perez Button, Bottas, Esteban Gutierrez e una Toro Rosso Magnussen, Holkenberg, Carlos Sainz e Giulio Palmer Siamo davanti a Carlos Sainz che è il nostro rivale di scuderia L'obiettivo ovviamente è star lì davanti Non mi ricordo che obiettivo Intanto andiamo a vedere un attimo la strategia di gara Il tempo intanto è bello Quindi si direi che su questo siamo fortunati Qui c'è da scegliere un P-stop su 15 giri Con cambio di gomme morbide da super morbide Con un cambio di circa al sesto giro per andare a tirare fino alla fine Oppure due cambi In questo caso al quarto e poi al nono giro Ovviamente per mantenere le gomme sempre al stato più alto Quindi ragazzi è da capire che cosa fare Io direi che proviamo la strategia a un P-stop Quindi cercherò di gestire le gomme Anche se perderemo un pochino Capacità serbatoio Abbiamo 15 giri Io ragazzi alzo perché non vorrei rimanere senza benzina Come mi è successo in qualifica nel primo episodio A costo di avere un po' di peso in più Ma direi che possiamo partire Diamo inizio a questo GP 2016 Tanto giro di warm up per scaldare le gomme Ok è tutto a posto Dobbiamo restare in formazione e portare l'auto alla temperatura giusta Scalda le gomme e i freni Vogliamo che siano belli caldi entro la fine del giro Ci dobbiamo regolare un attimo il volume Intanto procediamo col scaldare E trovare la vettura Che sembrerebbe Che funziona tutto quanto Stato dell'avversario Ok direi che funziona tutto raga La radio funziona Le gomme sono ok I freni vanno Ora completiamo questo giro di ricondizione Per prepararci a una gara che sarà durissima Il volume del motore è un po' troppo basso Questo ci potrebbe creare un po' di problemi Nel senso che non sento bene i giri motore Però Ormai non ho il tempo per regolare Direi che il cambio funziona bene Il fatto che è soltato lungo ragazzi La loro manca Eccoci qua pronti al schieramento Ragazzi siamo pronti per dare inizio a questo GP di Australia 2016 Stiamo in quattordicesima posizione L'obiettivo è quello di stare davanti a Carlos Sainz E recuperare qualche posizione Ovviamente in gara Vedremo cosa riusciremo a fare Il livello ovviamente è difficile Siamo alle prime armi Non ho avuto neanche modo di fare grandi test Su questo gioco Quindi vedremo come siamo Ce la giochiamo tutta Partiti intanto Buona la partenza Qui succederà ragazzi di tutto Alla prima cura Intanto staccata Perché siamo in posizione Abbiamo un po' di vibrazione di volata Attenzione perché qui è staccata Siamo interni Vediamo se riusciamo a recuperare qualche posizione Spero che frenava Se qua è un attimo vero un contatto Direi che siamo noni Una buona partenza In questo primo giro Ora vedremo di giocarcela Come se riusciamo ad avanzare un pochino Nelle altre posizioni Intanto abbiamo tagliato un po' troppo Però non ci hanno penalizzati Intanto è molto buono l'assetto Che devo dire è bello preciso Staccata Entrare dentro E ci siamo Progressivi Quanto giro più veloce di Ricciardo Siamo in ottava posizione Abbiamo una vibrazione altissima Al volante Che ci causa qualche risquido Abbiamo Perez dietro Andiamo dritti verso Massa ragazzi Vediamo se riusciamo Andarlo a prendere Allora che abbiamo Massa Che ci prova a passare all'esterno Ma è Grosjean Sembra avere più importanza Sembrerebbe più veloce In rettilineo Direi che siamo più veloci Nel misto Mentre perdiamo un pochino Nel rettilineo Ci mettiamo ora in scia Fra quanto sarà Disponibile il DRS Per guardare lo schermo Stavo per andare fuori Direi che stiamo andando con un ottimo ritmo Le gomme Ovviamente sono Iniziano ovviamente a usurarsi Si sente un pochino il deterioramento Però direi che ci siamo Quindi rimaniamo concentrati Devo prendere ancora confidenza La raga con i bottoni della radio Quindi mi sa che parlerò poco con l'ingegnere Intanto Magara lì davanti E questo ci permette di recuperare Attenzione Due posizioni a volo Solamente in uscita Siamo su Rosberg Intanto Badiera gialla Grazie Stiamo andando Come dei cannoni 80A Non fare errori Qui abbiamo scelto Un po' troppo Un po' più Anzi Delle la gomma Quando Hamilton Segna il giro veloce Stiamo pensando Di cambiare strategia Vuoi provare un'alternativa O preferisci A tenerti al piano A Ok In distanza Di un compagno di scuderia 4,3 secondi Ci stiamo avvicinando Alla finestra del pit stop Monteremo gomme morbide Direi che manteniamo La strategia Attenzione Perché ragazzi Qua non riesco Tra a parlare Con l'ingegnere Con gli avversari Che mi stanno sotto D'accordo Il distacco Dalla vettura davanti È 10,6 secondi Magari abbiamo tutti dietro Ma siamo Posizionati molto bene Sono quasi pronti Per il box Per il box E' veramente da Ritenere concentrati Intanto potete andare Sotto sterzo Mentre abbiamo Le gomme usurate Per il box Per il box E' un problema Attenzione A rettivino Lunghi Ragazzi Peccato Ci siamo mangiati Tre posizioni Anzi Quattro Diretura Va bene Va bene Ma no Oh che roba No ragazzi Abbiamo una strategia Alternativa a disposizione Vuoi a tenerti al piano Stabilito Vuoi provare a cambiare Ragazzi Abbiamo forato la gomma Perché dobbiamo dare subito Ai box Dobbiamo se riusciamo a tenere Intanto qui Contatti Andiamo subito Ai box Brutto questo sorpasso Onestamente Ci cambiano addirittura Il muso Non siamo neanche riusciti A dire Di non sostituircelo Questo ci fa perdere Piuttosto tempo Direi che ragazzi Siamo andati In 18 In posizione Molto molto male Abbiamo effettuato Tutte le soste A disposizione Quella era l'ultima Di nonostituirà Lieve danni all'ala anteriore di Carlos, per ora non ci sono conseguenze sulla sua gara. Grazie, direi male per questo contatto, che onestamente non mi è piaciuto per niente. L'effettivo è la tredicenema posizione, quindi ragazzi direi che siamo molto indietro. Colpa del contatto che non si voleva, intanto entriamo qui in sorpasso. Una gara in rimonta, quello che riusciamo a fare. Il distacco dalla vettura che ti precede è 0,9 secondi. Dovremmo recuperare il contatto, ragazzi, se gestiamo bene le gomme. Tanto siamo dietro a Ericsson. Ragazzi, contatto ancora? Ecco, devo dire, una cosa che onestamente mi ha un po' deluso è l'intelligenza dei... altri piloti che onestamente vengono addosso quando non c'è motivo. Tanto perdiamo moltissimo in accelerazione. Vediamo molto, ragazzi, sulla velocità massima. La vettura dietro di te è rientrata per montare gomme morbide. La vettura dietro di te monta gomme morbide. Intanto Verstappen è fuori gara. La vettura ha un grave problema. A quanto pare dovrà ritirarsi. La vettura gabbiamo lunghi e siamo stati spinti nuovamente. Troppi puntati in questa gara. Ecco, andiamo a cattivi su Bottas. Ragazzi, dove sta? Un po' ha rotto le palle. È possibile che tutto un contatto... Quindi il distacco dal tuo compagno è 3,5 secondi. Un po' ha ragazzi, vado sempre lungo. Per guardare il monitor sotto. Attenzione, incidenti più avanti sul tracciato. Non sono ammessi sorpassi bandiere gialle. Non sono ammessi sorpassi bandiere gialle di giallo. Ma, non è più giallo, sono ammessi sorpassi. Sì, abbiamo, con una vettura del centro di palle. È un attento, è molto filo. Ma, non è più, per me, ma. Un attento. È un attento. Ok, il distacco è 0,8 secondi. Ok, il distacco è 0,8 secondi. Ok, il distacco da quella dietro è 1,8 secondi. Ok, il distacco è 0,8 secondi. Ok, il distacco è 0,8 secondi. Ok, siamo a 6 secondi, siamo piuttosto lontani. Ok, non abbiamo neanche più il VRS. Ok. 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 Anche se iniziamo ad accedere un po' con la gomma No, vediamo se... Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri Alcune informazioni su Verline La sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare Grazie, ci siamo Siamo in recupero sulle posizioni davanti Non dovrebbe piovere, se cambia qualcosa ti avvisiamo Il distacco dal tuo compagno di squadra è 3,6 secondi Grazie, direi che ci siamo Non facciamo grande risultato Però possiamo chiudere l'obiettivo del scuderia Intanto Andiamo se... Andiamo a passare Verline Direi ok, raga Ci possiamo giocare all'obiettivo di scuderia Direi che è importante come prima gare Tanto ragazzi qua vado lungo, le gomme non ci sono più, peccato Peccato raga, adesso mi gioco ovviamente La posizione Dobbiamo di stare interni Ovviamente qui non abbiamo più gomma A due giri dovremmo riuscire a preparare con solo Il distacco dalla vettura davanti è 1,6 secondi Buon giri raga Tutto partito Tutto partito Dobbiamo calcolare che non abbiamo più gomma E quindi tendiamo ad andare in sottosterzo Bisogna anticipare la staccata Il motore leggermente usurato girerà a potenza ridotta Eh raga, non abbiamo più gomma No, ci passa science Raga, peccato Distacco dall'auto dietro 3,4 secondi Ficcio dall'auto dietro Per una volta che si sento Per una volta che si sento Il motore leggermente usava Beccato Il motore leggermente usate È un'ambiente Il motore leggermente usare Il motore leggermente usare ragazzi siamo fatti passare alla fine peccato allora ora recuperare Sainz tanto Ricciardo va a vincere questo primo GP abbiamo la macchina che non ha più gomma peccato perché potevamo fare entrambi gli obiettivi se non c'era qualche ruolo di meno era posizionato intanto taglio qui avvertimento qualche giro in più avremmo fatto un buon piazzamento attenzione perché qui si toccano Sainz che sorpassa l'ultimo giro ve lo provo a tutte ragazzi andrò aggressivissimo in staccata attenzione dentro su Sainz dentro su Sainz e sorpasso un po' aggressivo però c'è c'è ragazzi e andiamo a prenderci la tredicesima posizione hai fatto davvero un ottimo lavoro e hai guidato al meglio raga ci siamo salvati all'ultima curva con una manovra un po' esagerata però onestamente bisognava farlo non si poteva non rischiare intanto Ricciardo si porta a casa la prima vittoria Perez che fa un grande risultato non vedo invece le Ferrari che secondo me non sono andate benissimo ecco è qui dove tutti vogliono arrivare ed ecco i primi tre che salgono sul podio abbiamo Vettel in tazza posizione bravo Ricciardo che vince questo GP di Australia 2016 noi ragazzi accontentiamo di un tredicesimo posto che onestamente abbiamo raggiunto il obiettivo di scuderia abbiamo anche passato Sainz con un'ultima curva pazzesca però bisognava farlo ragazzi una gara che è stata conduzionata da un incidente iniziale che non si voleva direi che concludiamo il nostro inizio lo Sainz è che chiude il quindicesimo beh dopo una gara del genere non può che essere Nick Hulkenberg giusto? una guida molto pulita può ritenersi soddisfatto ed ecco come si configura il campionato costruttori la Mercedes passa in testa la classifica questa stagione promette molti colpi di scena rimanete con noi anche alla prossima gara per non perdervi un secondo di questa sfida appassionante zero punti ma siamo comunque in lista vedremo cosa riusciremo a fare nel prossimo GT intanto avanziamo vediamo cosa dice la scuderia se la nostra manager più che altro è soddisfatta intanto abbiamo preso un paio di punti stagione disciplinare punti risorsa attuale ok direi che abbiamo fatto un buon lavoro rispetto al nostro avversario che poi è compagno di squadra raga è brutto quando in realtà si è compagni ma si è avversari però queste sono le corse queste sono le scuderie quindi direi che vediamo con che risultato finiamo recuperiamo un punto in posizione pilota anzi due campionate piloti quindi peggio del previsto va bene sei punti direi che ci siamo tanto è bene che direi un po' di punti per il weekend questi saranno molto utili per migliorare poi la vettura raga siamo tornati nel nostro headquarters della Toro Rosso io vi mando un saluto ci vediamo in gara 2 per continuare questo campionato 2016 di Formula 1 ciao raga